Sir Tim Berners-Lee, lo scienziato informatico britannico che 28 anni fa ideò il web lancia il suo piano per contrastare la proliferazione delle cosiddette fake news notizie false o comunque non verificate attraverso la rete ma ammette che si tratta di una sfida, di lungo termine, dall'esito incerto e mette in guardia dal rischio che gli allarmi diventino alla fin fine un pretesto per attribuire poteri di censura o di controllo a governi e autorità varie Facebook comincia a segnalare le fake news la strategia di Berners-Lee, illustrata in un discorso tenuto per il 28esimo anniversario della nascita della sua creatura, punta tutta sulla trasparenza per frenare l'abuso della diffusione di dati personali in nome di un malinteso senso della libertà di parola per denunciare l'uso di algoritmi che promuovono la diffusione di comunicazioni sensazionalistiche e inattendibili attraverso la messa in evidenza di parole chiavesca per definire controlli interni al sistema sulla forme occulte e immorali di pubblicità politica il suo appello, ripreso dalla BBC è aperto a ricercatori e operatori della rete invitati a contribuire ad affrontare il problema con soluzioni pratiche che aiutino a tutellare ad un tempo l'affidabilità di ciò viene pubblicato e la democrazia di un web dove vi siano poteri uguali e opportunità per tutti Sir Team dice invece no a ogni tentativo di dare a governi autoriti centrali o grandi holding una sorta di diritto a stabilire quali notizie siano vere e quali no, anzi, denuncia come gli apparati di sorveglianza governativi siano andati già oltre illecito nelle loro intromissioni in internet